Alberti Ance, Palloni Paolo, Palpagano Sergio, Poeri Giovanni, Brizio Ibiano, Cepi Paolo, Del Sole Nicolino, Frascarelli Diego, Giordano Riccardo, Gramonto Fabrizio, Greco Marta, Lanteri Alessandro, Lanteri Mauro, Oreco Giostino, Ormea Roberto, Panetta Teodoro, Rossi Alberto, Sagietto Giovanni Battista, Salto Capriere, Spinella Salvatore, Presidente, Tornatore Diego, Bassano Fuglio, 4 presenti, 20 sono assenti, il primo appello non dà il numero legale, grazie segretario, il primo appello non ha dato il numero legale, quindi procederemo al secondo appello fra un'ora a partire da adesso.